Ciao picciotti, quest'anno a striscia la notizia per chi non sapesse ogni settimana lancio una nuova tesi negazionista complottista è un gioco nato per far capire quanto sia facile far attecchire una tesi del genere anche se assurda ma da quando faccio questa rubrica tra risate e complimenti sono arrivati anche tanti messaggi di minacce di ma ti sei venduto e quanto ti hanno pagato per dire questo volevo rassicurarvi che qualunque cosa io dica è perché io la penso e non perché qualcuno mi ha detto di lui ecco prima di arrivare al dunque di questo video vi faccio un breve escursus della mia odissea da negazionista a striscia la notizia la prima tesi che ho lanciato l'ho fatta casalinga e ho convinto la gente di fronte allo stretto di Messina che la Sicilia non è un'isola in realtà la Sicilia non è un'isola per dire quando partiamo con l'aereo ci fanno abbassare il finestrino perché non vogliono che noi vediamo dall'alto che un lembo di terra non ci ho mai fatto caso allora stiamo raccogliendo delle firme affinché i poteri forti possano dire la verità su questa cosa i poteri forti cosa difendono secondo la vostra teoria? tutte le teorie negazioniste hanno un fondo di verità basta sopra costruire su quel fondo di verità così parlando dei ciaghetti e ponte sullo scetto ho supercazzolato una meraviglia tutto il lavoro detto dai traghetti che se fosse realmente percorribile non ci sarebbe poi ho esagerato sono andato a Roma a dire che il Colosseo è stato venduto agli americani e mi è bastata come prova a sostegno della mia tesi una foto di ingresso al Colosseo chiaramente taroccata il biglietto è ingrandito dell'ingresso al Colosseo è scritto proprio tipo USA quando si fa il biglietto e quindi noi stiamo cercando che affinché i poteri forti possano dire la verità stiamo raccogliendo delle firme li sono comprati tutto adesso gli americani sono così li sono riusciti a venire pure il Colosseo poi sono salito ancora più a nord a Milano e ho fatto leva su un principio di sfida tra nord e sud dicendo che la pizza è melanese e non è napoletana sempre con grandi minchiate a tenere in piedi la tesi è di Milano è questa qui che quindi spodestiamo i napoletani esatto e l'unica differenza è che c'è del gorgonzola a posto della mozzarella con farina, lievito, pomodoro e gorgonzola faccio un'altra prova perché si teorizza che nell'accordo tra Vittorio Emanuele e Garibaldi c'è la propria ricetta della pizza per decretare l'unità d'Italia siccome onestamente qua eravamo a livelli di minchiata assurda abbiamo usato una finta ripresa nascosta di una finta dichiarazione di un vero chef due stelle Michelin che è Gennaro Esposito che ha voluto giocare con noi quando Garibaldi e Vittorio Emanuele si sono incontrati a Teano negli accordi c'era anche la pizza cioè noi guidiamo la pizza e noi guidiamo il sud li liberiamo insomma da tutto il sistema e secondo te perché la capicia rossa dei Garibaldini era proprio rosso? Guarda caso perché era il colore... il pomodoro, la pizza certo ma se ti scopisci una cosa del genere, tarta, tutto viene fu una rivoluzione firmiamo, firmiamo quando il negazionista diventa un pericolo quando passa all'azione diventa per esempio un non maschera la legge dice che mi devo mettere la mascherina e io non me la metto perché è dittatura sanitaria e così facendo ho diffuso il virus magari ho fatto chiudere qualche locale o ho ucciso qualche persona allora io ho creato qualche mese fa il non sembra contro i semafori perché sono dittatura pedonale ecco vi faccio vedere il finto congresso e questi sono i tentativi di prendere nuovi adepti siamo contro i semafori come i no masch però noi siamo contro i semafori perché è una dittatura pedonale volete aderire ai no sem? no voi continuate a usare i semafori? certo quindi non volete... allora è verde, adesso versate brava, vabbè, brava, 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 brava vabbè, continuiamo, continuiamo così comunque i no sem hanno successo da sempre e hanno pure VIP che ne fanno parte cambieremo il mondo basta la dittatura pedonale basta, adesso me ne vado che hanno investito il mio cugino bravo, bravo ma che bravo ma che bravo bravo, io aderisco, no sem ma che fa, scherziamo? ora da arrivare il semaforo mi deve dire a me quando e dove devo attraversare bravo sulla stessa scia abbiamo creato il non-feel ma perché mi devono dire a me di rispettare la fila non posso passare avanti quando voglio sei in fila? eh sì guarda, io vado avanti ah ok perché sono no-feel posso? ecco, grazie guarda, provo a scavalcarmi tu vedi? lo vedi che il mondo è più... è come no mask noi siamo liberi ce ne fregiamo delle regole su, su, su oh, bene così è un mondo di... dove capirlo? lui non ho fila è una fila per le regole eh vabbè eh vabbè no, sai ma allora dove andiamo a finire? cambiamo paese chi non vuole fare fila cambia paese e questo è il dittatore questa è dittatura in conclusione alla fine di ogni servizio raccoglievo circa 100 firme per ognuna di queste tesi assurde quindi esattamente come le tesi negazioniste e complottiste se in 100 persone dicono la stessa cosa non a quella tesi va rispettata quindi tanto pare l'ipotesi che il covid non esiste tanto quanto quella che la Sicilia non è un'isola che la pizza è meranese o che il colosso è americano questo ecco io non dico che non esistono i complotti perché no noi siamo il paese in cui ci sono delle strage non sappiamo che è colpevole oppure abbiamo dato la colpa a gente che non ceggiava niente eccetera eccetera ma non sarà di certo la zia Pinella che ben ce fa la pizza al forno legge la notizia su un sito altervista.org che gli dice la verità non sarò certo io con questo video a dirvi la verità su qualcosa ma in questa fase in questo momento la gente si ammala la gente muore e questo è certo quindi invece di usare internet per scoprire dei complotti nella tua home di facebook usalo per il motivo per cui è nato ed è il motivo per cui ho fatto questo video in qualunque città ti trovi se hai avuto il covid e adesso sei guarito per favore dono il plasma perché se il tuo plasma è iperimmune può salvare un'altra vita siccome le istituzioni se ne sono fregate a parte rare eccezioni non hanno raccolto nelle banche di plasma tanto plasma iperimmune da poterci permettere tanti guariti adesso non facciamo più lo stesso errore ecco il web nasce per questo una rete non che ci deve unire per picchiarci ma che ci deve unire per darci una mano e nell'anno in cui darsi una mano è un gesto così assurdo il web può essere la nostra ancora di salvezza quindi per favore donate plasma iperimmune e non condividete minchiate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti